18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sto per uscire? 26, 27, 28, 29, 30, Igor, Mattia, Evita, ragazzi! Fummo scordati tutti e cinque nel locale del Fulmo. Sono stata arrestata in casa alle 6 del mattino del 13 maggio 1944. Fummo fatti spoliare uno alla volta. Dieci di noi furono portati attraverso la piccola porta. Non ho sentito gridare nessuno, salvo l'unica donna che era con noi. Ero in un continuo stato di terrore di essere ammazzata da un momento all'altro. Le condizioni psichiche e morali erano tremende. Qui mi miserò in un gran camerone composto di piccole celle che esistono tuttora. Sei giovane, ricordati. Hai una vita davanti a te, ricordati delle cose. Non dimenticare mai, ma non odiare. Non dimenticare mai, ma non odiare.